22 i decessi odierni nelle Marche, tutti con patologie pregresse. Il più giovane aveva 54 anni di Pesaro, mentre il più anziano aveva 100 anni, residente sempre a Pesaro. Dall'inizio dell'epidemia il totale sale a 652 vittime, si contano 222 donne e 430 uomini. Nella provincia di Pesaro Urbino 371 morti da inizio emergenza sanitaria. E' inferiore a 100 il numero di contagiati rilevati sui 700 tamponi esaminati dai laboratori marchigiani nelle ultime 24 ore. Un altro piccolo segnale di rallentamento del trend di diffusione del Covid-19, a seguito delle ulteriori limitazioni degli spostamenti delle persone imposte a fine marzo da governo e regione. Nelle ultime 24 ore è calato il numero dei pazienti ricoverati nelle Marche, da 1141 a 1101. In diminuzione anche i degenti, in terapia intensiva da 140 a 139. In semi-intensiva da 286 a 277. In reparti non intensivi da 522 a 487. I guariti dimessi crescono da 296 a 342. Contestualmente in aumento invece le persone che si trovano ricoverati in area post-critica, da 193 a 198, e i positivi che stanno in isolamento domiciliare da 2.565 a 2.637. In totale i contagiati nelle Marche finora sono 4.710. 1.956 in provincia di Pesero-Urbino, 1.429 ad Ancona, 664 nel Maceratese, 314 nel Fermano e 235 ad Ascoli-Piceno, mentre 112 provengono da fuori regione. Sul fronte isolati in casa per contatti con persone positive al coronavirus sono in 7.335 di questi 2.718 con sintomi e 4.617 asintomatici, tra cui 1.010 operatori sanitari.